special digital bench oggi sono di nuovo con fiammetta cirillo grazie fiamma per essere di nuovo sulla mia panchina digitale grazie a te per gli inviti allora avevo il piacere oggi di condividere con chi ci sta guardando e chi ci guarderà quella che può essere una telefonata tipo che arriva al numero verde di farm care ok chi è che chiama e che cosa chiedono solitamente allora il numero verde è attivo h24 per poi attivare il servizio poi abbiamo un cellulare dedicato dove ci arrivano le telefonate delle emergenze delle urgenze sempre h24 ok oggi abbiamo cominciato le quattro e mezza del mattino con una telefonata di una mamma che ha la bambina di due anni con una febbre altissima diciamo che la signora aveva già chiamato ieri perché la bambina presentava un rush cutaneo quindi delle bolle non aveva la pediatra sotto mano per cui ci chiede una consulenza ad oggi la tecnologia ci aiuta perché abbiamo i tablet le fotografie tutto in tempo reale e teniamo riusciamo a tenere sotto controllo nel pomeriggio la bambina e frattanto sente anche la pediatra per cui si tranquillizza tanto però stanotte parte una febbre altissima e c'è il sospetto di un allergia proprio alla tachipirina giustamente le quattro e mezzo del mattino che fai che ha il numero verde esatto ci chiami e abbiamo gestito la cosa anche solo calmando la signora chiedendole di sfogliare la bambina idratarla bene di fare in maniera tale da metterla in una posizione comoda darle un altro farmaco invece che la tachipirina in quel caso il neurofem e stamattina poi verso le 10 al follow up la bambina è asfebrata bene questo mi sembra veramente un caso come dire molto molto concreto anche di emergenza da gestire durante la notte soprattutto quando si tratta di bambini e magari ecco per le prossime digital pensione racconteremo anche di altre telefonate tipo che arrivano al numero verde farmacare e puoi aggiungere qualche altra qualche altro consiglio magari da dare o suggerimento come utilizzare il numero verde farmacare con il numero verde che ora come al solito non ricordiamo chilo 800 561 753 ci contattate e da qui poi vi spieghiamo l'iter e vi diamo un numero dedicato dove rispondono sempre medici che parlano perfettamente l'italiano che comprendono perfettamente l'italiano e che sono online sempre h24 7 giorni una settimana bene grazie fiamma ci vediamo sabato prossimo con le special digital bench di farmacare con fiammetta cirillo ciao